Ma ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video qua sul mio canale Oggi siamo qui con il terzo episodio di Among Us per andare ad analizzare, a vedere una partita che ho fatto da impostore ragazzi Ma che velo sto via a fare, da impostore perfetto, incredibile Cioè secondo me l'ho giocata bene, poi fatemelo sapere nei commenti Comunque vi ricordo like, iscrizione e campanellino e mi lascio al video Mi raccomando di rimanere aggiornati perché ci saranno, se vi iscrivetevi e attivate la campanellina perché faremo live in quel gioco con voi Quindi ancora like, iscrizione e campanellina e vi lascio al video, bello, buona visione Oh oh alleluia, finalmente sono per una volta l'impostore Finalmente qualcosa di utile posso fare E adesso carotina Oh oh alleluia, bello, va accedere al medioehrt Facciamo così Ma facciamo un po' i vaghi I vaghi, where security, ok I'm in electrical Io eri in electrical E non ho visto niente Questo c'è da dirlo Ok, tutti ti vanno security Weevons Ah, io ero in Weevons Ok, ok I'm with Birones Yes I think it's black Tu dici black Voto purple Purple I was destroying medioehrt Purple E quindi che si vota Why purple then, I swear Quindi E che ti devo dire Io ho votato il purple 100% black Eeeh Ma me lo dovate di prima però che era da schippare Adesso che io ho incolpato il viola Sicuramente Come Peppe andrea acquittato Ma no Ma l'impostore Di nuovo da solo Da solo Nooo Dai ragazzi Non è possibile Sempre da solo Sempre da solo Rimango Come faccio da solo Come faccio da solo A chillarne così tanti Ecco qui Carodino Allora questo non lo posso chillare adesso No, tutti qua stanno Mamma mia Ma vanno le tasche tutti qua Ok quella Quella acquittata Meglio per me Meglio Siamo di meno Meno siamo Meglio è possibile Nessuno viene qui Mi viene Dannazione Ok 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 E si Vediamo vediamo che dicono White is with Oh I'm in Si Ci vedo E Niente Si vota il bianco Meglio così Meglio così No I'm not fixing the words White Blue Are you sure? So why don't Go to sabotage Allora io direi che Adesso si vota Il bianco E poi E poi Vediamo che Devo chiamare l'emergenza Perché il blu Ha accusato il bianco In Giustamente Quindi Ok Vi direi che Mi vado qui a guardare un po' le gambe O almeno A far finta Di guardare le gambe Ok Quello è ripassato in Secure Eh ragazzi Danno Non so se è un aggiornamento O cosa Però Pure se guardi le telecamere Il countdown Non si Regalia Che Che Grazie a tutti. No, ragazzi, mi sono fregato da solo. Blue and red. Vai, fin, blu. E niente, se vota il blu, se vota. E quindi adesso direi che mi basta una kill? Quindi mi basta una kill per vincere? Non me la mettete voi su un piatto d'argento questa partita, ragazzi. Le partite però non me la mettete su un piatto d'argento. Oro. Rimango qua perché così non può levare il sabotaggio. Rimango qua. Aspetto che mesi fa la video. Ragazzi, sono troppo forte. Ormai non c'è, non c'è niente da fare. Sono l'impostore perfetto. Sono l'impostore perfetto, ragazzi. Troppo forte come impostore, ragazzi. Troppo forte. Troppo, 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 troppo forte. Ebbene, ragazzi, sì. Da quello che avete appena visto, ho fatto una partita incredibile. Da, insomma, come si può dire, da impostore perfetto proprio. Cioè, una cosa incredibile. Perfetto, perfetto, perfetto. Non ho sbagliato niente. Non mi hanno mai sospettato. Cioè, mi hanno sospettato, ma proprio alla fine, alla fine. E sono riuscito comunque a svincolarmi. Comunque, io, vi ricordo. Like, iscrizione e campanella se avete visto questo video divertendovi e con piacere. Scusate per l'audio, ma purtroppo non ho un microfono ottimo. Quindi, non credo si sente molto alto. Però, ragazzi, comunque se vi mettete le cuffiette e alzate un pochino il volume, insomma, tutto ok. Io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo con un prossimo. Non so su quale video gioco, comunque credo sempre a Mongas perché capite bene che Brawl Stars non fa più reviews di una volta. E comunque, vi ringrazio di aver visto il video. Vi ricordo, like, iscrizione e campanellina. E ci vediamo con un prossimo video. Bella!